Sono in un parco con Tina Fogg e ho trovato uno scivolo gigantesco, bellissimo, tra l'altro 12-13 metri. Attualmente la modella è posizionata nelle mie solite pose con le gambe a siluro e sto per realizzare una serie di scatti. Vi faccio vedere come faccio. Ferma così, vale? Apri leggermente i piedi, ok? Coletto un po' in fuori, bene. Non fa proprio caldo, è un po' freschino, ci saranno circa 10 gradi, ma io utilizzo sempre modelli che hanno un grandissimo temperamento e riescono a trattenere il freddo fino a temperature quasi sotto lo zero. Andiamo a vedere come sta. Come va, Vale? È caldissimo. Infatti, vedi, per loro il freddo è nulla. Allora, vediamo un po'. Riprendiamolo da qua. Piedi più vicini. Allargali un po', leggermente. Ok, ora vieni giù, come abbiamo fatto prima. Li porti, li lasci abbandonati un po'. Bravissimo, la professionista. Ferma così, allarga un po' i gomiti. Ancora più in giù. Vieni, vieni, ancora più in giù. Anzi, no, riporta lì davanti. Questa visuale è bella. Allarga un po' i piedi, verso l'esterno. Anche l'altro. c'è un piccolo ragno sulla tua gamba. Non è vero, è una gag. Bene, brava. Le piace stare lì, non ha capito che abbiamo finito. Seguitemi ancora nei miei prossimi set fotografici che vi racconto come realizzo le mie fotografie. Ciao. Ciao.